Pistoia al centro dell'Europa, la città diventata capitale italiana della cultura nel 2017 sotto i riflettori a Bruxelles con un appuntamento al Parlamento Europeo per sottolineare i risultati di una progettazione integrata territoriale che segue passo passo le linee guida europee. Pistoia diventa così capitale della cultura grazie ad una progettazione integrata e partecipata, primo appuntamento della giornata europea, una tavola rotonda al Parlamento sul ruolo delle capitali della cultura come stimolo per la crescita e lo sviluppo, a cui hanno partecipato tra gli altri il commissario alla cultura Tibor Navracic, la vicepresidente della regione toscana Monica Barni e il sindaco di Pistoia Samuele Bertinelli. Quello che è fondamentale è una progettazione che sia integrata e partecipata, smettere di pensare alla cultura come una somma di eventi, la cultura deve essere una visione, deve essere un modo di pensare e appunto una via per lo sviluppo di un territorio. Il 2017 sarà l'occasione per Pistoia di schiudersi anche a un pubblico internazionale. Vorremmo ospitare i sindaci delle capitali in Italia e in Europa della cultura per provare a elaborare una carta delle città della cultura che rilanci l'utopia concreta degli Stati Uniti d'Europa, che rimetta al centro il sapere come diritto di cittadinanza, come fattore di civilizzazione. Poi l'iniziativa è proseguita con una degustazione di prodotti tipici toscani e con uno spettacolo della compagnia Virgilio Sieni Quartet che si è tenuto al teatro dei Vaudville. Pistoia ci presenta una città inedita rispetto a tutto quello che è un'omologazione abbastanza imperante, una città inedita proprio perché nuovamente si può vedere un popolo, si può vedere una dimensione urbanistica nella quale aggirarsi e camminare, si può rigenerarci attraverso tutto quello che è una serie di camminamenti, di opere d'arte che dialogano con il quotidiano. Grazie a tutti!